Buonasera ben ritrovati con l'informazione di Calabria News 24. Ha inveito contro il vicino di casa con una piccola ascia Vibo Valencia il personale della squadra mobile è intervenuto prontamente ma si è reso necessario l'utilizzo del teaser per bloccare l'uomo. Ha aggredito un vicino con un'accetta per futili motivi provocandogli profonde ferite e continuando anche dopo l'arrivo della polizia tanto che gli agenti sono stati costretti ad usare la pistola taser per bloccarlo e disarmarlo. L'uomo è stato quindi arrestato per tentato omicidio il fatto è accaduto in una frazione di Vibo Valencia dopo la segnalazione al 113 di una violenta aggressione in corso sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno trovato un uomo riverso a terra con evidenti perdite di sangue mentre subiva l'aggressione da parte di un altro armato di un'accetta nonostante i ripetuti ordini di allontanarsi e posare l'arma l'uomo non ha desistito costringendo gli agenti ad usare il taser. Dalle prime indagini è emerso che la lite era nata per problemi di vicinato degenerando nella violenta aggressione con l'uso dell'accetta che come risulta gli atti delle indagini avrebbe mirato a colpire la vittima in testa con la finalità di uccidere. Per tali ragioni l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale associato poi agli arresti domiciliari. Passiamo ora alla politica parliamo di infrastrutture tema sul quale il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso è intervenuto dichiarando senza infrastrutture non c'è sviluppo. Se non cresce il sud e le sue regioni più svantaggiate come la Calabria non cresce il paese e se non si dota la Calabria delle infrastrutture basilari non le si consente di promuovere sviluppo e nuova occupazione. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso intervenendo al convegno su infrastrutture e sviluppo organizzato a Vibo Valencia dall'associazione difesa dei diritti e del territorio. Lo sviluppo del sud, del Vibonese, della Calabria intera è legato all'adeguamento di tutte le infrastrutture. Inutile parlare di turismo, parlare di sviluppo imprenditoriale se le strutture non sono adeguate a quelle che sono le esigenze ormai del territorio. Ho partecipato con piacere perché sono stati sviscerati quelli che sono i problemi ormai risaputi e diciamo quello che si è concluso è che tutti insieme, tutte le forze che sono impegnate a che migliorino le strutture devono collaborare, devono mettersi insieme senza difese di posizione personale e che finalmente la Calabria abbia le sue infrastrutture che ci porteranno a livello delle altre regioni. Restiamo in tema perché procedono i lavori di manutenzione di ANAS sulle strade calabresi. Gli operatori ANAS in questi giorni sono impegnati negli interventi di manutenzione delle opere in verde lungo la strada statale 106 Onica. Le attività che stanno interessando il tratto stradale compreso nel territorio comunale di Crotone con interventi di sfalcio erba e bordi di scarpate e banchine rientrano nell'ambito delle attività necessarie a garantire i massimi livelli di efficienza e sicurezza per i veicoli in transito. Inoltre lungo la strada statale 107 Silana Crotonese ANAS ha completato la pulizia delle scarpate e delle opere idrauliche nel territorio comunale di Rocca di Neto. Cambiamo argomento. Oltre 4.000 presenze in sette giorni al Museo Nazionale di Reggio Calabria. Risultati incredibili di cui si dice soddisfatto il direttore ma sentiamo i dettagli nel servizio. Sono stati oltre 4.000 gli ingressi di visitatori e turisti italiani e stranieri registrati al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nell'ultima settimana che è coincisa con la festa della musica istituita per la giornata del 21 giugno dalla Commissione Europea e dal Ministero della Cultura. Nel dettaglio durante gli ultimi sette giorni che hanno impegnato la struttura con eventi ed iniziative si sono contati 3.115 ingressi paganti e 1.132 gratuiti. È stata una settimana memorabile, afferma il direttore del Marc Carmelo Malacrino, perché tra le sale espositive riecheggiavano le melodie suonate dai musicisti, mentre in altri spazi si svolgevano laboratori didattici, incontri scientifici e momenti divulgativi. Un risultato che si deve alle sinergie messe in campo sul territorio con enti, università e associazioni. In particolare, la festa della musica, sottolinea Malacrino, è stata l'occasione migliore per visitare la grande mostra per gli dèi e per gli uomini, musica e danza nell'antichità, curata proprio dal direttore Malacrino insieme all'archeologa Patrizia Marra e ad Angela Bellia, ricercatrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale e del CNR e studiosa di musica antica. Una straordinaria esposizione temporanea, con oltre 160 opere provenienti non solo dalle collezioni del Museo archeologico nazionale di Reggio, ma anche da quelle del Museo archeologico nazionale di Napoli e del Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa. Restiamo nel Reggino. Scido accoglie la merenda nell'Oliveta, promossa dalla città metropolitana di Reggio Calabria. Decine gli appassionati che si sono riversati alla manifestazione. Ancora uno straordinario successo per la merenda nell'Oliveta, promossa dalla città metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito della campagna nazionale dell'Associazione Città dell'Olio. A Scido, presso l'azienda agricola Tarsitani di Scido, decine di appassionati hanno preso parte al tour organizzato dalla Metro City. Considero che è una buona iniziativa perché fa conoscere questo territorio. Scido, questi sono territori che si conoscono poco. Stamattina abbiamo visitato il museo della città contadina, la biblioteca di Palazzo Ruffo e abbiamo fatto vedere dei bei posti. L'iniziativa merenda nell'Oliveta presso l'azienda Tarsitani a Scido, nella contrata Santa Giorgia, iniziativa della città metropolitana con l'Associazione Città dell'Olio che si è svolta in altre città d'Italia, in altri luoghi d'Italia. Noi abbiamo come città metropolitana aderito alla città dell'Olio già da quasi due anni. È un'associazione che unisce una comunità di persone e di istituzioni. Unisce, come dicevo, oltre 500 comuni, città e consorsi. Quindi una rete importante per divulgare, promuovere, valorizzare la risorsa olio e la risorsa olivo. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. A tutti voi una buona serata.